È datato 1971 ed è nella storia della televisione italiana il primo sceneggiato in cinque puntate prodotto e trasmesso dalla Rai dedicato alla figura di Leonardo da Vinci. Nel giorno delle celebrazioni in tutto il mondo per i 500 anni della morte del genio toscano, inventore, artista e scienziato senza pari, merita di essere ricordato una pellicola che ebbe anche gubbio tra gli sfondi, oggi diremmo le location, scelte per alcune delle scene della produzione internazionale curata, oltre che dalla Rai, da TVE e Istituto Luce. La sceneggiatura, che prevede quattro puntate di Nora Ciascuna e rientra nella serie Grandi Italiani, abbraccia la vita di Leonardo dalla nascita alla morte. Renato Castellani è il regista ed è anche autore, insieme a Cesare Brandi, del soggetto della sceneggiatura con l'incredibile Leonardo, interpretato da un giovane ma già eccellente, Philippe Leroy, con Giampiero Albertini e Giulio Bosetti, quest'ultimo nelle vesti di narratore. Le riprese di questo, che può essere definito un vero e proprio film, iniziarono il 23 marzo a Formello e durarono circa 25 settimane, tra le località toccate per le riprese, oltre ovviamente a Gubbio, Ostia Antica, Roma, Città di Castello, Urbino e Venezia, Milano, Firenze e alcune località francesi. Della vita di Leonardo, che è certamente tra le più grandi figure della civiltà italiana, quella più conosciuta e popolare in tutto il mondo, sono pervenute poche frammentare notizie, eppure proprio questa difficoltosa lettura del personaggio è stato lo stimolo a costruire in quella occasione un programma che cercasse di restituirlo al vasto pubblico della tv nella più autentica dimensione di uomo, con uno schema originale, quello di un conduttore del programma, un po' come il regista della piccola città, che muovendosi entrando e uscendo dalle scene, lui in abiti moderni tra i personaggi e gli ambienti rinascimentali, approfondisce proprio nel segno dell'inchiesta il significato più recondito della personalità dell'artista. Una versione pionieristica delle meraviglie di Alberto Angela, che tanto hanno spopolato sul piccolo schermo negli ultimi mesi. A Gubbio le scene, prevalentemente di interni, furono girate negli ambienti del Palazzo dei Consoli, un contesto straordinario per riprodurre fedelmente la maestosità delle architetture del 400 e 500 italiano, ovvero dell'epoca più florida del Rinascimento, ma anche le sale degli Arconi, dello stesso complesso architettonico, nonché Palazzo Ducale. Un ricordo, impreziosito dall'interpretazione notevole di Philippe Leroy, che conferma come Gubbio abbia rivestito in quel periodo in una spiccata vocazione ad essere scenografia naturale, di importanti produzioni, documentaristiche e cinematografiche. La fine degli anni Sessante, l'inizio dei Settante, anche il periodo in cui Franco Zeffirelli scelse la città di Pietra, più che le stesse Verone e Assisi, per ambientare capolavori come Romeo Giulietta e Fratello Sole, sorella Luna.